Oggi parliamo di genetica, di Covid e dell'uomo di Neandertal. Perché si dà il caso che i possessori di un frammento di DNA ereditato dall'uomo di Neandertal siano più esposti al rischio di contrarre il Covid-19 in forma grave. Dolm è venuto a Massimo delle Donne, professore ordinario di genetica all'Università di Verona. Buongiorno Massimo. Buongiorno a lei. Quando hai iniziato a occuparsi di Covid? Ho iniziato a occuparmi di Covid fin da marzo dell'anno scorso, quando siamo entrati nel pieno della pandemia. Abbiamo cercato come università di dare una mano al Servizio Sanitario Nazionale per cercare di capire quanto fosse pericoloso questo virus, come agisse e per cercare di capire anche se ci fossero delle predisposizioni genetiche nelle persone che appunto predisponevano una forma più o meno grave della malattia. E avete iniziato a lavorare al Covid perché avete ricevuto in qualche modo un incarico o perché spontaneamente voi come altri scienziati in giro per il mondo diciamo si sono offerti di appunto dare un contributo? No, allora diciamo che questo paese ha fatto una scelta secondo me difficile da accettare che è stata quella di mandare in smart working anche gli universitari per cui noi di fatto abbiamo dovuto ridurre drasticamente la nostra capacità di fare ricerca in laboratorio perché smart working in laboratorio non lo si può fare, serve un laboratorio. E devo dire anche che non abbiamo mai ricevuto nessun finanziamento nonostante appunto avessimo la volontà di fare qualcosa. Quindi l'abbiamo fatto di nostra spontanea iniziativa, abbiamo cominciato a sequenziare i primi tamponi per vedere che i virus erano già diversi un anno fa e abbiamo poi cercato di mettere a punto dei sistemi che permettessero di sequenziare ancora meglio questo virus per arrivare alla fine anche a cercare di identificare se ci fossero delle predisposizioni genetiche che conferivano appunto la predisposizione a un Covid più o meno grave. Ecco, allora ci sono delle categorie che si sa sono più vulnerabili e più a rischio che sono di solito gli anziani, persone con determinate patologie, però qui stiamo parlando di un fattore di rischio determinato dalla genetica. Avete dato una risposta a questa domanda? Avete individuato questo fattore di rischio? Allora, devo dire noi no, perché appunto non siamo mai stati finanziati. Non capisco come mai questo Stato abbia deciso di finanziare così poco la ricerca nelle università e non solo la ricerca invece negli ospedali, ma c'è per fortuna, c'è stato un consorzio internazionale che si chiama Covid-19-Hg, che ha raccolto tutti i gruppi più importanti che al mondo hanno lavorato per cercare di scoprire se nel genoma di ciascuno di noi c'era o non c'era una porzione di DNA che contribuiva a predisporre a questa malattia. E questo consorzio ha lavorato per un anno, un anno e mezzo, all'inizio definendo delle ipotesi, facendo delle ipotesi, alcune delle quali poi col passare del tempo si sono rinforzate e altre invece che si sono indebolite. Ricorderete per esempio il fattore di rischio basato sul gruppo sanguigno. Dicevamo un anno fa che chi aveva il gruppo 0 era più protetto di chi aveva il gruppo A, poi abbiamo col tempo invece ridotto l'importanza assegnata a questo fattore di rischio. Oggi non ne parla praticamente più nessuno. Mentre invece altre ipotesi col tempo si sono rafforzate. Una in particolare su una regione di DNA che sta sul cromosoma 3, noi abbiamo 21 coppie di cromosomi, su quello che viene chiamato numero 3 c'è una porzione di circa 50.000 lettere che si dice, o meglio si dice, che qualche gruppo di ricerca ha scoperto provenire da Neandertal che predispone al Covid grave. Ecco, questo è sempre affascinante sentir parlare dei Neandertal, perché per lungo tempo ci si è interrogati sulla loro estinzione. Poi ora la scienza, penso sia un fatto assodato, ha confermato che sono stati in qualche modo assimilati nella nostra specie. Che cosa significa veramente? Innanzitutto chi li porta questi geni dei Neandertal? Quante persone oggi? Tutti noi, nel nostro genoma, nel nostro DNA, abbiamo un 2-3%, tutti noi europei, tutti noi europei abbiamo un 2-3% di DNA che proviene da Neandertal. Poi alcuni di noi invece hanno quella porzione che sta sul cromosoma 3, che è solo una parte di tutto quello che Neandertal ci ha lasciato. La porzione di europei che dovrebbe avere questo fattore genetico di rischio per il Covid grave su cromosoma 3 in Europa dovrebbe essere intorno al 15% stimata. I nostri dati su coloro che si sono rivolti a Genartis per effettuare questo test e vedere se avevano o non avevano questa regione ci dice che poco più del 20% degli italiani ha questo fattore di rischio su cromosoma 3. Quindi diciamo che come italiana io non devo chiedermi chissà se ce li ho questi geni nel Neandertal. Ce li ho, però tutto dipende a quali porzioni e se tra quelle porzioni c'è magari questo fattore di rischio in questo caso per il Covid. Esattamente. E come si fa a sapere? O meglio, dopo aver individuato questa correlazione o almeno aver corroborato con i dati questa ipotesi che cosa avete fatto? Come ci aiuta questa informazione? Allora, intanto quello che noi abbiamo fatto è stato davvero italiani, cercare di semplificare un test molto costoso e molto complesso rendendolo disponibile a basso costo e a tutti. Quindi, per cercare la presenza di questa regione prima era necessario sequenziare l'intero DNA di una persona. Questo richiede tanto tempo e tanti soldi perché sequenziare comunque il DNA di una persona costa ancora migliaia di euro. Noi avevamo bisogno invece di sviluppare un test che potesse essere eseguito nell'arco di qualche ora e ad un costo che fosse comparabile a quello dei tamponi molecolari. L'Italia ogni giorno esegue 200.000 tamponi almeno quindi immaginate il costo che sostiene. A questo punto poter avere la possibilità anche di utilizzare un test analogo per vedere la presenza di un fattore di rischio come questo nella popolazione che non manifestava altre comorbidità secondo noi era una cosa importante. Per cui abbiamo sviluppato un sistema che sfrutta la stessa tecnologia del tampone molecolare solo che invece di andare a rilevare la presenza di SARS-CoV-2 il virus che conferisce la malattia Covid andava a rilevare la presenza va a rilevare la presenza di questo fattore di rischio che sta sul cromosoma 3. Quindi è un test che viene eseguito con la stessa strumentazione che viene utilizzata da tutti gli ospedali e da tutti i laboratori di analisi che svolgono questo servizio di valutazione della presenza del virus nel cavo orofaringeo. Se oggi io potessi fare questo test ad esempio e individuassi che ho o non ho questo fattore di rischio a questo punto questo vorrebbe dire a me stai attenta oppure vorrebbe dire a voi scienziati dobbiamo ancora accumulare dati per poter corroborare questa ipotesi non è ancora certa? Forse è un fattore di rischio forse no? Allora che sia un fattore di rischio è appurato dalle statistiche come funzioni però ancora non sappiamo perché è una regione ancora troppo grande sono 50.000 lettere una delle quali probabilmente è quella responsabile ma non sappiamo quale analizzare tutte 50.000 ci richiederà tantissimo tempo sicuramente nella popolazione italiana ma anche europea ci sono persone che hanno una porzione più piccoletta non 50.000 ma meno e che manifestano lo stesso l'importanza di questo fattore di rischio che quindi permetterebbe di zoomare all'interno della regione restringendola e quindi caratterizzandola meglio Le vorrei fare un'ultima domanda che sorge spontanea ed è anche la domanda da un milione di dollari ma si sa perché questi geni legati al Neandertal possono essere più vulnerabili scoperti nei confronti della contrazione grave del Covid ci possono addirittura dire qualcosa su questi antenati questi cugini antenati? In questo momento non le so rispondere in questo momento nessuno le sa rispondere perché ancora non sappiamo come diavolo faccia questa regione in fondo così piccoletta sono 50.000 lettere sulle 3 miliardi di lettere che compongono il nostro genoma nessuno sa come diavolo facciano queste 50.000 lettere a essere correlate a un fenotipo Covid grave non lo sappiamo all'inizio si è speculato che quindi Neandertal sia scomparso proprio per questo perché portavano forse un po' esagerato che siano scomparsi per un virus della forma del raffreddore dell'influenza la cosa incredibile qualcuno dice che Neandertal è scomparso perché praticamente è stato sterminato dall'homo sapiens ma non c'è nessuna prova noi non sappiamo perché Neandertal è scomparso quindi questa è stata un'altra delle tante ipotesi portate che probabilmente ha almeno fondamento di tante altre però chi lo sa io la vorrei ringraziare non solo per il suo tempo oggi ma anche per la buona volontà dimostrata da lei come da tanti altri scienziati all'inizio della pandemia di rendersi utili e quindi di contribuire nella misura in cui ciascuno può all'interno del proprio lavoro spero di poterle parlare un'altra volta se c'è qualcos'altro che vuole aggiungere ne ha modo spero che va bene così per oggi grazie per il tempo che mi ha dedicato grazie, grazie mille a lei, buongiorno grazie mille a lei